Ciao ragazzi! In questo video vedremo quali sono i 9 errori da non fare quando dovete arredare una camera da letto, di qualsiasi stile e dimensione. Lasciate un mi piace sulla fiducia e iniziamo! Il primo errore è quello di scegliere dei comodini troppo alti o troppo bassi rispetto al letto. L'altezza dei comodini dovrebbe essere uguale a quella del letto ma terasso compreso. Questa è la configurazione più comoda e adatta praticamente a qualsiasi situazione. Se siete sdraiati e il letto e il comodino sono allo stesso livello spesso riuscite a prendere o appoggiare degli oggetti sul piano del mobile semplicemente stendendo il braccio. Se invece il comodino è troppo alto o basso le operazioni sono più scomode perché magari dovete tirarvi su per raggiungere la sveglia, per accendere la luce, per appoggiare gli occhiali, insomma tutta una serie di cose che facciamo mentre stiamo andando a riposare oppure al risveglio diventano più scomode e fastidiose. Un dislivello di pochi centimetri ci può anche stare ma non esagerate. Il secondo errore consiste nello sbagliare la posizione della tv in camera, ovviamente se ne avete una. La posizione migliore è davanti al letto matrimoniale, immaginate proprio di tracciare una linea retta dal centro del letto fino alla parete frontale. Questa collocazione garantisce un'ottima visibilità da qualsiasi punto della stanza e un'esperienza visiva rilassante perché non dovete girare il collo. Diciamo che questa è la regola generale perché di solito la tv in camera si guarda mentre si è letto. Se invece guardate la tv da un'altra posizione allora le cose cambiano. L'altezza ottimale dipende invece da come guardate la tv. Se la guardate con la schiena appoggiata alla testiera considerate un'altezza pari a quella del livello degli occhi, quindi circa 120 centimetri da terra. Se invece la guardate da sdraiati, per intenderci con la testa sul cuscino, vi servirà un'altezza superiore perché dovete guardare un po' verso l'alto. La cosa migliore da fare in questo caso è fare delle prove, quindi stendetevi o appoggiatevi alla testiera e trovate la vostra altezza ideale. L'apparecchio ricevitore può essere appoggiato su un mobile, come ad esempio una cassettiera, oppure appeso alla parete, in posizione fissa o su una staffa regolabile. La staffa regolabile è una buona soluzione perché vi consente di cambiare l'angolazione o l'altezza della tv in base alle vostre esigenze. Ricordate che la grandezza del televisore, inteso come pollici dello schermo, andrebbe scelta in base a due parametri, la distanza tra l'apparecchio e lo spettatore e la risoluzione dello schermo. Se vi può interessare ci sono anche dei configuratori online, che trovate con una piccola ricerca, che vi dicono la grandezza ideale dello schermo in base alla distanza tra voi e la parete e in base alla risoluzione della televisione. Terzo errore, mischiare male gli stili di arredo della vostra camera. Qui la parola chiave è coerenza. Se ad esempio avete un letto e un armadio in stile moderno o comunque contemporaneo, cercate di tenere questa linea per tutti i mobili della camera. In sostanza, se lo stile è contemporaneo, non è il caso di inserire una cassettiera in stile barocco, oppure degli altri complementi che hanno uno stile che si discosta troppo da quello del letto e dell'armadio. Accostare dei complementi di stili diversi è comunque possibile, e a volte il risultato è bellissimo. L'importante è creare qualcosa di uniforme, di coerente, altrimenti rischiate di ottenere un effetto finale molto sproporzionato e molto cautico. Il quarto errore riguarda la testiera, che come i comodini non deve essere né troppo alta né troppo bassa. La testiera gioca un ruolo molto importante perché fa parte del letto, l'elemento principale della camera che attira subito le attenzioni di chi entra nella stanza. La testiera serve a proteggere la testa e la porzione di parete, offre un sostegno mentre siamo seduti e decora a suo modo la stanza, perché è una sorta di cornice del letto. Alcuni modelli hanno anche dei cassetti o dei contenitori a giorno per riporre vari oggetti. In sostanza parliamo di un elemento decorativo e funzionale che secondo me non dovrebbe mai mancare, salvo alcuni casi, relativi a particolari stili di arredo. La testiera giusta per il vostro letto dovrebbe essere ben proporzionata al letto, ovviamente, ma anche alle dimensioni della camera, altezza compresa. Come ho detto, non dovrebbe essere né troppo alta né troppo bassa. Se è troppo alta rischiate di ottenere un senso di oppressione, soprattutto se la camera è piccola o ha delle altezze standard. Se invece è troppo bassa potreste ottenere un senso di vuoto o di mancata protezione e appoggio. Non esiste un'altezza giusta o sbagliata per tutti. In linea generale però posso dirvi che dovreste considerare un'altezza della testiera compresa tra circa 30 e 40 centimetri oltre il materasso. In questo modo avrete un sostegno per la schiena, protezione per la testa e la porzione di parete e una cornice per il letto. Ovviamente la testiera non è obbligatoria. Se scegliete di rinunciarvi, vi consiglio di valutare un decoro per la parete dietro il letto, perché il muro bianco e spoglio potrebbe comunicare un senso di vuoto ed incompleto. A questo proposito, nella descrizione trovate le mie otto idee per decorare la parete dietro il letto. Quinto errore. Sbagliate la disposizione delle prese e degli interruttori. Questo aspetto riguarda soprattutto quegli interventi o quelle ristrutturazioni che prevedono modifiche o rifacimento dell'impianto elettrico. Le posizioni di prese, interruttori e punti luce vanno decise prima di iniziare i lavori e devono tener conto dell'arredo. So che sembra scontato, ma non è così, perché a volte ci si ritrova con armadi o testiere davanti a una presa o con degli interruttori troppo lontani dal letto. È anche per questo motivo che l'impresa con cui collaboro, oltre a realizzare disegni dello stato di progetto, realizza anche disegni della situazione operativa a fine lavori. Quindi fa un disegno abbastanza preciso di come potrebbe essere arredata la casa. In questo modo il cliente ha degli elementi importanti sui quali riflettere e se vuole delle modifiche le può richiedere già in fase di progetto, quando il cantiere non è ancora partito. Cosa diversa è richiedere delle modifiche in corso d'opera o, peggio ancora, arrivare a fine lavori ritrovandosi con delle prese, con degli interruttori o con dei punti luce nelle posizioni sbagliate. Il sesto errore consiste nello studiare male l'illuminazione artificiale. C'è stato un tempo in cui le camere da letto avevano solo un punto luce a soffitto, di solito al centro della stanza, e un punto luce per comodino. Le cose sono cambiate con lo sviluppo della tecnologia LED e oggi potete creare moltissime configurazioni di luci grazie a corpi illuminanti di vario genere. Senza entrare nei dettagli dell'argomento illuminazione, che è vastissimo, provo a riassumervi quelle che sono le regole basilari per la corretta illuminazione delle camere da letto. Ci tengo a specificare che si tratta più che altro di linee guida generiche, che ovviamente non sono assolutamente vincolanti, anche perché il concetto di illuminazione è piuttosto soggettivo e ognuno ha le sue preferenze. Di solito nelle camere cerchiamo un'atmosfera rilassante, accogliente ed invitante, ideale per il buon riposo e il dolce risveglio. Per richiamare e per attrarre queste sensazioni dovete usare le luci calde. In parole molto semplici si tratta di fonti di luce con sfumature di colori che spaziano tra rossiccio, arancione, giallo e bianco caldo. Queste tonalità, che somigliano a quelle del tramonto e dell'alba, sono ideali per ottenere il clima di relax e intimità che vogliamo nelle camere. Per riconoscere una luce calda sia a livello tecnico che pratico dovete controllare la temperatura di colore del corpo luminoso, come ad esempio la lampadina. Questa temperatura è espressa in gradi kelvin e le luci calde hanno una temperatura che arriva fino a circa 3.300 gradi kelvin. Oltre questa temperatura abbiamo le luci neutre e poi quelle fredde. Per darvi un'idea delle differenze, le luci fredde vengono usate in edifici come ospedali, officine, cucine professionali e in altre attività dove c'è bisogno di molta attenzione e concentrazione. ecco perché le luci fredde sono più accese ed abbaglianti. Quelle calde invece sono più leggere, più soffuse e sicuramente più rilassanti. Se in camera da letto avete una scrivania per la zona studio, per la scrittura o per il disegno, forse vi conviene usare una luce più accesa, come ad esempio una luce neutra, dedicata solo a quella zona della camera. Oltre a scegliere delle luci calde, quantomeno per le zone di relax e di tranquillità della vostra camera, dovreste creare anche varie situazioni luminose da usare in base alle vostre esigenze. Oltre alle luci dei comodini di solito serve una luce principale, anche se non c'è bisogno di illuminare a giorno la stanza, quindi evitate le luci abbaglianti. Potreste magari inserire una fonte luminosa dedicata all'armadio e poi bisognerà valutare in base all'arredo e alle vostre esigenze. Se ad esempio avete una zona trucco o studio, potete predisporre delle fonti per queste zone. Per alcune cose potete sfruttare i controsoffitti, per altre ci sono le lampade a sospensione, da terra, da soffitto, da tavolo, da parete, ci sono i profili led destinati ai mobili, come ad esempio l'armadio, e volendo ci sono anche i segni a passo. Li ho visti in altri ambienti, come corridoi e zona giorno, ma nessuno vieta di usarne uno o due nella camera da letto. Come vi dicevo, l'argomento illuminazione è molto molto vasto, quindi se avete ancora dei dubbi scrivete un commento. Mi scuso anche quei professionisti dell'illuminotecnica perché io ho dovuto condensare i concetti principali in pochissimi minuti. Se volete dire la vostra, vi aspetto sempre nei commenti. Settimo errore, mai pitturare le pareti della camera con colori aggressivi, vivaci o per così dire stimolanti. La camera da letto è all'ambiente destinato al riposo. Per favorire il sonno e cocolare al risveglio dovete scegliere delle tonalità rilassanti. I colori ideali sono soprattutto i toni pastello del verde e del blu, che richiamano la natura, quindi piante, mare e cielo, e che danno un senso di pace. Altre ottime tonalità sono il crema, il beige e il marrone chiaro, oltre al classico bianco. Vi consiglio invece di evitare rosso, giallo ed arancione perché sono molto vivaci ed eccitanti, incoraggiano il movimento, la passione e persino l'ansia, quindi sono poco indicati per le stanze da letto. Se però amati toni accesi e li volete inserire a tutti i costi nell'arredo, li potete usare per alcuni oggetti e complementi, come ad esempio i cuscini, le coperte e i quadri. In questo caso sarebbe meglio scegliere una sfumatura leggera del colore e non la forma primaria, quindi una soluzione che non abbia una carica cromatica forte come il colore primario. Ottavo errore, non rispettare le proporzioni. Le dimensioni degli arredi e dei complementi dovrebbero sempre adeguarsi alla stanza e allo spazio disponibile. Se ad esempio abbiamo una camera dove la metratura è giusta per il letto e l'armadio, non è il caso di aggiungere dei comodini voluminosi o larghi. Meglio scegliere dei modelli proporzionati al letto o in mancanza di spazio valutare dei comodini sospesi o delle vere e proprie mensole, in modo da alleggerire l'immagine della camera. Se la camera è grande potete acquistare dei comodini più larghi. L'importante è che siano proporzionati al letto e che nell'insieme tutto l'arredo sia adeguato allo spazio disponibile. Il concetto di proporzione si può spiegare con una sola parola, la parola armonia. Il vostro obiettivo dovrebbe essere quello di creare un ambiente armonioso, equilibrato ed accogliente. Vi sconsiglio di aggiungere mobili solo per riempire la stanza perché rischiate di creare un ambiente disordinato e sgradevole. Se avete poco spazio e fate fatica a inserire ciò che vi serve, valutate mobili multifunzionali. Parliamo di arredi che svolgono più funzioni e che permettono di recuperare molto spazio, al punto che si riesce a concentrare tutto ciò che serve su una o due pareti. Nono ed ultimo errore, disporre male gli arredi, a partire da letto e armadio che sono i due mobili principali e anche quelli più ingombranti. Quando si arreda una camera bisogna innanzitutto stabilire le posizioni di questi elementi e in genere il letto ha la priorità. La posizione del letto rispetto alle pareti e all'ambiente è molto importante per le sensazioni di sicurezza e riposo delle persone che dormiranno in quel letto. Per stabilire la giusta sistemazione del letto bisogna fare delle valutazioni e qui si apre un mondo perché ci sono delle regole o delle teorie sulla corretta collocazione del letto. Sono regole e teorie che vanno dai ragionamenti di buonsenso alle credenze popolari fino agli insegnamenti della disciplina del feng shui. La prima cosa che probabilmente avrete già sentito è che i piedi del letto non dovrebbero essere posizionati direttamente sulla linea della porta. Secondo il feng shui e anche secondo alcune credenze popolari questa sistemazione porta sfortuna perché richiama la posizione dei defunti nelle bare. Qui ognuno lo può pensare come vuole ma nel dubbio se non potete cambiare parete spostate il letto in posizione decentrata rispetto alla porta. Secondo il feng shui il letto non andrebbe collocato nemmeno in questa posizione quindi con la testiera su una parete con la porta perché in questo modo non riuscite a vedere chi sta per entrare nella stanza. Diciamo che è una soluzione che potrebbe trasmettervi un po' di inquietudine anche se ovviamente è una cosa soggettiva. Ci sono invece un paio di posizioni ideali che sono quelle che state vedendo e che vengono definite posizioni di comando che vi permettono di controllare l'ingresso della stanza. Bisognerebbe inoltre valutare la posizione della camera rispetto le altre stanze. Se la camera confina con un bagno forse non conviene sistemare qui il letto perché il riposo potrebbe essere disturbato dai rumori dell'acqua nelle tubature ma anche qui ci sono vari fattori da considerare. Se avete il suono leggero, se la parete ha un minimo di insonorizzazione e se vi è possibile sfruttare un'altra parete. L'ultima cosa che vi segnalo è la posizione dell'armadio. Se avete un armadio molto grande e molto alto evitate di posizionarlo di fronte al letto. La massa imponente di un grande armadio potrebbe creare un senso di schiacciamento mentre siete a letto, soprattutto se non c'è molta distanza tra il letto e l'armadio. A livello indicativo, tra un armadio con ante battenti e il letto dovrebbero esserci almeno 80 cm, distanza che si riduce a 60 cm in caso di armadio con le ante scorrevoli. Ricapitolando, ecco i nuovi errori da non fare quando ho redato una camera da letto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi errori, scrivete un commento anche se avete una domanda. Se il video è stato utile lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale attivando le notifiche. Ci vediamo nella prossima puntata, qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi! Grazie! 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 Grazie!